Buongiorno, buongiorno. Buongiorno è venerdì 13 ottobre 2017, pronti per una nuova giornata, pronti per una nuova ora in nostra compagnia per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e le prime delle testate nazionali. Ovviamente rivedremo anche alcuni dei servizi andati in onda nell'edizione di ieri del TG6. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, con le quattro edizioni del centro, poi vedremo le prime pagine di Messaggero e la città. Qui siamo nell'edizione pescarese del centro. L'apertura cade dalla scala, muore imprenditore. Pescara Portosa, titolare di Megablock, aveva 62 anni e è rimasto in coma due giorni. Poi sotto la testata passa la legge elettorale, la Camera vota il Rosatellum, 5 stelle in piazza senza grillo. E poi gli Stati Uniti lasciano l'UNESCO su Israele, distorce la storia. Scendiamo a metà pagina, intanto vediamo la fotonotizia. Giro d'Italia 2018, tre giorni in Abruzzo, arrivo di tappa, campo imperatore, poi il riposo e si riparte da Farindola. A Termoli affonda barca da Di Porto, due morti. Di televisione Rai si cambia, nominati i direttori di rete. Di spalla leggiamo anche intervento a Montesilvano, nuovo blitz nella pineta, sgomberati, 15 disperati. Delitto Pavone, Gagliardi in carcere dopo la condanna e per il calcio Zeman rassicura la Serie B, non si decide ora. Ancora in basso altri tre richiami che andiamo a leggere. Emergenza a strade dalla regione, 56 milioni alle province. Fondo Valle Sangro, De Sanctis vince con il ribasso del 31%. Via al bando fondi ai film che parlano abruzzese. E poi c'è il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, la vita, una maratona contro la paura. Vediamo ora l'edizione aquilana del centro con l'apertura. Avezzano, ribaltone in consiglio. Il Taraccoglie, il ricorso delle opposizioni. Il sindaco De Angelis perde sei consiglieri. I richiami poi di spalla. Gran Sasso, esperimento nucleare. La regione ora frena. A Prezza, ustionata in cucina, si lancia dal balcone. A Celano si ribaltano con l'auto. Feriti tre ragazzi. Ora l'edizione terramana del centro. L'apertura. L'olio frena l'esperimento nucleare. Il vicepresidente della regione dice stop per adesso ma non fermiamo la ricerca. E poi di spalla, riconfermato il manager Asle Fagnano. Ora la nomina di 14 nuovi primari. In basso, a Giulianova il mercato ittico riparte con il botto. A Teramo, violenze sulla domestica. Assolto, settantenne. E infine vediamo l'edizione teatina del centro. L'apertura. Bollo auto, prescrizione in tre anni. Coda con schietti. La Cassazione boccia la regione per le tasse chieste anche per il 1999. Poi questa particolarità nel piccolo comune del Chietino. Borrello record. Nel piccolo borgo nove imprenditrici. E poi ancora in basso leggiamo a Vasto, auto bruciata nel cortile. Torna la paura e a Chieti tosto fa affari con i big del petrolio. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo. Con le parole del vicepresidente della regione Lolli. Fermate il test nucleare. Lolli ai laboratori del Gran Sasso. Niente sperimento senza le adeguate informazioni. Svelato il giallo del camion era una simulazione di trasporto ma senza un cerio radioattivo. E poi tre richiami sotto la testata. Il personaggio addio femminella. Pescara perde uno storico commerciante. Serie B. Zeman sicuro. Il mio Pescara destinato a crescere. E poi il verdetto del Tara. Vezzano vince. Di Pangrazio ribaltata la maggioranza. L'ex sindaco. I giudici amministrativi assegnano 13 seggi invece di 7. Il primo cittadino De Angelis presenterò ricorso. Intanto resto al mio posto. E poi leggiamo anche di spalla. Torna Renzi. Il 19 ottobre visiterà 4 città. Intanto D'Alfonso non parla sulla sua seconda candidatura in regione. A centro pagina vediamo i vaccini sono introvabili. Allarme sieri antitetanici in città. E poi sempre a centro pagina il faro di due procure e ANAC sull'interporto Valpescara. Manopello canoni mai versati alla regione. Esposto del presidente. E poi in basso l'accusa. I comuni sono inefficienti. Andiamo a vedere nella prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo. con il titolo d'apertura. Stop all'esperimento radioattivo. Sollevazione ambientalista. Sox troppo rischioso per l'acqua. Regione presa in contropiede. Corre ai ripari. E poi sotto la testata. 20 anni da precari. Per 100 euro al mese. Gli ex LSU delle scuole chiedono la stabilizzazione. E poi a Valle Castellana. Sindaco Cupido cerca innamorati over 60 per Rai 3. E poi ancora centropagina con Ombrina che lascia l'Abruzzo. Ecco qui smantellato il simbolo della battaglia No Triv. per mollare gli ormeggi. Titola la città. E poi di spalla. L'intervista al manager confermato dell'ASL Tenamana. Fagnano. Gli obiettivi del manager. Mano ai conti e alle liste d'attesa. A Roseto. Al Borsacchio si tornerà a fare il bagno. E poi in basso vediamo sul fronte Teramo Calcio. Ancora dubbi in attacco. Ma il rientro di Amadio è una certezza. Lasciamo ora i quotidiani locali. Andiamo a sfogliare le prime pagine delle testate nazionali. Partendo dal Corriere della Sera. Ecco qui l'apertura. Legge elettorale. Passa il sì. Ovviamente questo è il fatto che guadagna l'attenzione e le aperture di un po' tutti i quotidiani. Camera. Il patto PD-AP. Forza Italia. Lega. Supera il voto segreto. Oltre 40 franchi. Tiratori. Proteste in piazza dei 5 Stelle. No. Di MDP e Fratelli d'Italia. Ora il testo all'esame del Senato. E poi sotto la testata. La Maison. Moda. La svolta di Gucci. Inunciamo alle pellicce. Per il volley accusata di doping. Era cibo contaminato. Si la torna a giocare. Poi l'editoriale di Paolo Mieli. L'indulgenza italiana sull'UNESCO. Troppe distrazioni. Scendiamo a centro pagina con la fotonotizia. L'omertà degli uomini afflecca. Anch'io ho molestato con lo scandalo a Hollywood su Harvey Weinstein. Hillary Clinton restituisce le donazioni di Weinstein. E poi di spalla Milano. I fantasmi che vendono coca e biciclette rubate. Con un libico tra i migranti. Nell'inchiesta del Corriere della Sera. Andiamo ora a vedere la prima pagina di Repubblica. Ecco qui. L'apertura. Il voto segreto. Non ferma la legge elettorale. Passa la Camera. Nonostante più di 50 franchitiratori sì alla norma salva impresentabili. Caccia i beneficiari. Renzi preoccupato. Adesso cerca i numeri per il Senato. Di Maio contro la Lega. Aiutate chi ci riempie di profughi. E poi in basso leggiamo di spalla anche il dramma di un padre nel massacro del Mediterraneo. Che ha cambiato la nostra storia. Vediamo ancora in basso Draghi ai tedeschi. Grazie alla BCE 7 milioni di posti. E poi il caso Forza Nuova insiste. Marcia su Roma. La replica del ministro Minniti non si farà. E poi ancora gli USA via dall'UNESCO. Si riapre un'antica ostilità. E poi Tissen senza giustizia. Fate scontare le pene. Avanti con la prima pagina della stampa. Ovviamente sempre la legge elettorale in evidenza nel titolo d'apertura. Primo sì la replica dei 5 Stelle. Ribellatevi. Via libera alla Camera con 60 franchitiratori. Il testo passa al Senato. Bersani. Gentiloni. Non è credibile. Scrutinio segreto. Fra polemiche e veleni. 375 favorevoli. 215 contrari. Griglini. Alzate la testa. La battaglia non è finita. E poi al centro pagina la fotonotizia. Svezia. Il concerto per sole donne. Stoccolma. Iniziativa per la prossima estate. Contro violenze e stupri. Di spalla. L'allarme di draghi. Stallari troppo bassi. BCE. Banche. Procedure rispettate. Manovra. Oggi il decreto su IVA. e rottamazione. Avanti ancora con il sole 24 ore. E si riparte proprio dall'ultimo titolo che abbiamo visto sulla stampa. Rottamazione bis al via. Prima tappa a novembre nel decreto fiscale. Il nuovo calendario per aderire oggi al Consiglio dei Ministri. Si riaprono i termini di luglio e settembre. Sanabili anche i primi nove mesi del 2017. A centropagina obbligo di revisori per 175.000 SRL nella riforma del fallimento nuovi criteri per gli organismi di controllo. Rodolf alla guida della squadra per i decreti delegati. Primi testi entro il 10 di gennaio. La prima pagina del fatto quotidiano. Salvano il fascistellum minacciando i deputati. La legge elettorale passa alla Camera con 375 voti. E poi l'intervista allo scrittore Roberto Saviano che dice E' un agguato alla nostra democrazia. Giuste le parole forti secondo lo scrittore. E poi ancora scendendo in basso. Questioni di famiglia, commissione, banche, casini e il PD mettono Etruria in coda ai lavori. E poi addio complotto. L'ex capo difende Woodcock su Renzi Senior. Scelte condivise. Colangelo, nessuna irregolarità sul caso Consip. Infine a centropagina. Raig, Banelli, sfida Orfeo. Piano B in tv. In alternativa alle web news. In aspettativa fino a fine ottobre. E poi si chiede il fatto. Avanti ancora con il manifesto. Ecco il titolo d'apertura. Camera ardente con 375 sì. La Camera approva il Rosatello. Ma a favore della nuova legge PD. Forza Italia, Lega e Centristi. 215 voti contrari. Meno di 50 franchi tiratori. In piazza la protesta dei 5 Stelle. MDP pagina nera in Parlamento. La riforma passa alla prova del Senato. E in basso gli Stati Uniti con Israele fuori dall'UNESCO. La decisione dopo la presa di posizione dell'organismo ONU sulla Palestina. Proseguiamo ancora. Siamo al messaggero. Il patto regge elezioni più vicine. Legge elettorale. Rosatellum passa la Camera a voto segreto. 375 sì. 50 franchi tiratori. Tiene l'intesa 4 PD. Forza Italia, Lega Alternativa Popolare. Gentiloni finale ordinato di legislatura. Grillo non va in piazza. Sotto la testata. Molestie sessuali. Il caso Weinstein. Jane Fonda accusa. Trump fa così. Il campionato con Roma-Napoli e Juve-Lazio. Incrocio di bomber. Scendiamo a metà pagina e vediamo la fotonotizia. Stati Uniti e Israele schiaffo all'UNESCO. Via dall'organizzazione. Pregiudizi contro lo Stato ebraico. E poi manovra. Si riaprono le senatorie fiscali. Piano per la web tax. Rottamazione cartelle fino a settembre. Nuova finestra per il rientro dei capitali. Il tempo. Non c'è Rosatellum senza spine. La legge elettorale passa la Camera. Mancano 75 voti. Almeno 50 i franchi tiratori in Senato. Si temono nuovi agguati. E poi sotto la testata. La vicenda di Cesare Battisti. Il mio pianto libero. Battisti se la canta e se la suona. Dal Basile il terrorista. Ora ha paura. Se mi mandano in Italia. Sono morto. La prima pagina di Libero. Commissione banche rotte come il bar. Offre da bere. Il presidente Casini gira a vuoto. L'inchiesta partirà dalle popolari venete. Non ci sarà invece tempo per far luce. Su Etruria ed MPS. I manager dei crack sono salvi. Bidonisti pure. I parlamentari possono così pasteggiare sereni. E poi la fotonotizia. Gentiloni felice piangerà al Senato. La Camera approva la legge elettorale che piace a Renzi, Silvio e a Salvini. Avanti ancora con la verità. Vediamo i titoli di apertura delle ultime tre testate. Babbo Boschi dovrà sborsare 16 milioni. Ma ha solo un orto. Il liquidatore accusa lui e gli altri amministratori di aver spolpato Banche Etruria. E chiede i danni. Peccato che per farlo abbia impiegato due anni. E che nel frattempo i responsabili si siano spogliati di tutti i loro beni. L'apertura dell'avvenire Unesco senza stelle. I Stati Uniti e Israele abbandonano l'ONU della cultura. Troppo filo palestinese. L'ANP governerà Gaza. E poi ancora il secolo XIX. La legge elettorale, il patto tiene. Una cinquantina. I franchi tiratori. Cinque stelle in piazza. Senza Grillo. Bersani contro Gentiloni. E infine il mattino la battaglia del voto è già al Senato. La Camera approva il Rosatellum. Ma ci sono 60 franchi tiratori. Lira dei grillini. Possiamo lasciare ora le prime pagine delle testate nazionali. e andiamo a sfogliare ora il centro. Tornando dunque alle vicende locali. Siamo a pagina 2 del centro. Ecco qui il titolo che dà l'apertura alla pagina. Dalla regione 56 milioni per le province. A Teramo e Chieti le somme sono maggiori. Fondi trovati nel Masterplan, piste ciclabili e bonifica della discarica di bussi. Di Sabatino il primo a elencare gli interventi. Pupillo dice o l'imbarazzo della scelta. E poi ancora per Di Marco, presidente della provincia di Pescara. È una grande decisione che tampona gli effetti drammatici dei tagli. Per la giunta di D'Alfonso la Edison interverrà nel sito contaminato. Il pubblico può usare i soldi altrove. Poi in basso si parla del tour di Matteo Renzi in Abruzzo il 19 di ottobre. Il segretario PD ed ex premier visiterà quattro località. Saranno singole tappe nelle province della regione. Scelte per raccontare la realtà abruzzese. Intanto si torna a parlare del futuro politico del governatore. E poi ancora le carte dell'appalto. Fondo Valle Sangro De Sanctis ha vinto con il ribasso del 31%. L'offerta dell'impresa romana è inferiore di 58 milioni su 192. Affidamento provvisorio. La manager dell'SPA si presenta a Pescara. E poi in basso leggiamo patto per il lavoro. La regione dia risposte. Domani manifestazione dei sindacati CGL, CISL e UIL. Andiamo avanti. Siamo alla pagina dell'Abruzzo. Ecco qui cinema e turismo fondi per i film made in Abruzzo. La regione stanzia 200 mila euro per sostenere la produzione di videoclip, corti e documentari. E poi le reazioni leggiamo in basso. Ogni euro investito si moltiplica per 7. Le porace, presidente della Lucana Film. Ecco cosa può insegnare l'esperienza della Basilicata. L'Abruzzo ha potenzialità enormi sia per il contesto, dalla montagna al mare alle città d'arte, che per l'avvicinanza agli studios romani. E allora vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6, proprio sulla segnalazione dei fondi per il cinema. Valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale dell'Abruzzo, anche ai fini turistici, favorire lo sviluppo dell'occupazione e promuovere le risorse del territorio. Sono questi gli obiettivi che hanno animato il progetto della regione Abruzzo di sostenere il settore cinema attraverso la concessione di contributi da destinare alle opere audiovisive e cinematografiche legate al territorio abruzzese con certezza di distribuzione. Il bando, già pubblicato sulla pagina cultura del sito della regione Abruzzo, scade il 14 novembre prossimo, per un progetto che dovrà fornire nuova linfa alle produzioni cinematografiche che fanno riferimento all'Abruzzo. Il prodotto cinematografico dovrà avere un legame storico ed artistico-culturale con l'Abruzzo e dovrà prevedere uno sviluppo sul territorio regionale di almeno due terzi dei giorni di lavorazione del film. Lo scopo è quello di valorizzare la realizzazione di progetti cinematografici di spessore puntando sulle qualità dell'offerta culturale con la finalità di investire risorse economiche per valorizzare i territori regionali nei quali saranno effettuate le riprese. Diciamo che questa è un po' un'anticipazione della Film Commission perché la Film Commission poi c'è anche all'interno della struttura anche dei privati e qui bisogna fare un ragionamento. Noi abbiamo un progetto di legge depositata in quinta commissione, c'è ancora discussione da fare, però sono convinto che i tempi sono buoni per portarla a termine, però anche con innovazione rispetto alle altre regioni che ormai sono datate sulla questione del Film Commission. Bisogna guardare oltre, ma bisogna guardare anche sui finanziamenti europei. Noi abbiamo creato una struttura di Eurocultura a Abruzzo appunto per recepire sempre di più i fondi europei. 200.000 euro significa che noi non possiamo finanziare per esempio una grande produzione cinematografica che venga da una grande casa cinematografica, un grande casa di distribuzione. Io penso che l'Abruzzo sia pronto anche per le vicende passate ad accogliere produzioni che abbiano location mirate, evocate. Posso citare sempre quella storica di Lady Hawk o di King David nell'Aquilano. Pagine di Pescara del centro, dramma in negozio, commerciante dei Colli, cade dalla scala e muore Giovanni Portosa, titolare di Megablock, ispirato dopo due giorni di coma. Poi ancora, ecco intanto, c'è anche una foto del titolare di Megablock che è scomparso dopo una caduta, probabilmente dopo aver avuto anche un malore, è caduto dalla scala. E poi quest'altro articolo, la ASL, mamma morta, un evento inaspettato. I familiari della 34enne, tragedia inspiegabile. Oggi l'autopsia. In basso, delitto Pavone, Gagliardi va in carcere, il killer dell'ingegnere prelevato a casa dei Carabinieri dopo la condanna definitiva. Avanti ancora, troppe aggressioni da detenuti psichiatrici, sindacati degli agenti di polizia penitenziaria, chiedono l'intervento del Ministero. La situazione potrebbe diventare esplosiva con l'aumento degli atti di violenza. Sempre restando sulle pagine di Pescara, la Calbit compra il cementificio per un milione e mezzo di euro, confermata la giudicazione all'asta dello stabilimento all'azienda che produce calcestruzzo. D'Alfonso, non ci sono le condizioni ambientali e amministrative per la riaccensione dell'impianto. E poi a centropagina, via ai lavori per potenziare il depuratore, parere favorevole del Comitato valutazione ambientale all'opera da 12 milioni e mezzo, si parte a novembre. Sempre a Pescara, gomme termiche scatta l'obbligo dal 15 di novembre. Un provvedimento impone ai veicoli che percorrono le strade provinciali di dotarsi di pneumatici invernali o catene. Le multe arrivano fino a 335 euro. Siamo ora a Francavilla, Stadio del Mare, il comune alla ricerca di un gestore. C'è tempo fino al 18 ottobre per partecipare alla procedura di gara. L'impianto da 290 spettatori può ospitare eventi sportivi, teatrali e musicali. E poi di spalla a Pianella raddoppia la banda larga, così attiriamo le imprese attraverso la convenzione con Infratel. E poi a Spoltore, 83 automobilisti non assicurati contro le assorprese della Municipale. In 20 circolavano nonostante il ritiro della patente. Avanti ancora siamo alla pagina di Montesilvano. Degrado in città, nuovo blitz nella Pineta, sgomberati 15 disperati. Vigili e carabinieri in azione nella riserva naturale antistante via Firenze. Vi avevano trovato rifugio gli extracomunitari rimosti, materassi, tende e sedie. E poi le ferrovie, leggiamo di spalla, sono in arrivo i pannelli fonoassorbenti. A darne notizia il consigliere Mauro Orsini, delegato alla supervisione del progetto, secondo il quale il cantiere sarà aperto nel primo trimestre del 2018. E per la cronaca in basso, motociclista grave dopo lo scontro, violento impatto contro un'auto, 58 anni, ricoverato in prognosi riservata. Avanti ancora, siamo in zona vestina, a Piazza Luca da Penne, via al referendum sull'adozione della ZTL. Il Movimento 5 Stelle consulta i cittadini da oggi e domenica sul futuro dell'area. I negozianti temono cali di vendite. E poi in basso, leggiamo, esce il libro della bimba che commosse il volo. A Cappelle è pubblicato il volume di Ileana, 12 anni. Gli artisti registrarono un video dedicato a lei. Siamo ora alla pagina di Chieti. A vasto incendio doloso, bruciata nel cortile l'auto di una donna. Torna la paura alla marina, fiamme in Viale Dalmazia, l'una della notte scorsa, un mese fa. Vicenda analoga in via del porto. Indagini in salita nella zona del rogo. Non ci sono telecamere per la videosorveglianza. I residenti sono pochi in questo periodo. Sempre sulla pagina di Chieti, al centro, Walter Tosto fa affari con i big del petrolio. Tre ordinativi di 80 milioni di euro dal gruppo Saudi Aramco. Altri cinque dalla chimica giapponese. E poi in basso, bollo auto, stop a riscossioni decennali. Coda con schietti, la Cassazione boccia la regione per le tasse richieste anche dopo 15 anni. E ora la pagina aquilana. Lolli frena l'esperimento. Il vicepresidente della regione stop per ora, ma non vogliamo fermare la ricerca. E poi ancora, il direttore dei laboratori si è scusato per l'inconveniente e ha assicurato la sua disponibilità e collaborazione per il futuro. Gli scienziati dovranno produrre documentazioni per consentire alla regione di fare valutazioni oculate sulle iniziative che intenderanno intraprendere. Sempre sull'esperimento nel Gran Sasso, si sono espressi con un secco no gli ambientalisti. Ascoltiamo l'intervista di Paolo Lorenzetti ad Augusto De Sanctis. De Sanctis, sulla questione Gran Sasso, voi parlate di un'escalation radioattiva. Lanciate un forte allarme. Perché? Perché è inaccettabile l'esperimento che vogliono fare nel Gran Sasso, che prevede l'arrivo da una centrale nucleare russa di parte di combustibile nucleare, di un reattore nucleare che viene prima riprocessato a Mayak, sempre in Russia, e poi trasferito tramite la Francia al Gran Sasso. Dovrebbe arrivare una sorgente radioattiva di mani proporzioni. Stiamo parlando, da un punto di vista poco tecnico, della stessa quantità di potenzialità emissiva di quanta radioattività è andata nel mare a Fukushima. Stiamo parlando di una quantità immensa da piazzare dove dentro in sotterraneo, nel Gran Sasso, un'area sismica di altissimo rischio, in un laboratorio che già ora è a rischio di incidente rilevante, perché ci sono migliaia di tonnellate di sostanze pericolose. Peraltro questa sorgente radioattiva verrebbe messa proprio sotto centinaia di tonnellate di idrocarburi infiammabili, il trimetilbenzene. Lì c'è tutta l'acqua che praticamente beviamo sia a Pescara che a L'Aquila, che a Teramo, a Chieti anche. Il Gran Sasso è la nostra sorgente d'acqua per eccellenza, sarebbe veramente un eventuale incidente. È chiaro che arriverebbe questa sorgente schermata, per far capire che devono schermarla talmente tanto che hanno dovuto inventare e costruire un contenitore di tungsteno di 19 cm mai realizzato al mondo. Però nonostante questo qualcosa anche esce, lo ammettono loro stessi in termini radioattività, ma chiaramente noi siamo spaventati dal potenziale incidente, perché pur i reattori nucleari sono schermati fino a quando poi accadono gli incidenti che abbiamo visto. Sul centro la pagina di Avezzano, ribaltone a Palazzo di Città Consiglio, cambia la maggioranza. Il Tar accoglie il ricorso di Di Pangrazio, l'ex sindaco Cascere e De Ligi. De Angelis perde sei consiglieri e la cosiddetta Anatra Zoppa. La reazione del primo cittadino, De Angelis, sono pronto ad andare avanti con il mio programma. In basso si ustiona in cucina, grave giovane mamma, apprezza la donna, si è lanciata dal balcone per salvarsi dal fuoco, è ricoverata al Sant'Eugenio di Roma. Chiudiamo la prima parte di mattino 6 con la pagina terramana del centro, grandi manovre in sanità. Adesso bisogna nominare 14 primari. Fagnano, riconfermato dalla regione alla guida dell'Asl, ora deve firmare il contratto, non tornerà prima di una settimana. E poi di spalla il processo, donna delle pulizie lo accusa di tentata violenza. Ci fermiamo dunque con la prima parte di mattino 6, poi dopo le previsioni del tempo e la pubblicità, torneremo per sfogliare le pagine di Messaggero Abruzzo e la città. Ancora buongiorno, è la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo come promesso dal Messaggero Abruzzo. Ecco qui a pagina 37, il gran sasso a rischio. La regione ha l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il test nucleare deve essere sospeso. Il vicepresidente Lolli, mai più vicende del genere in futuro. Dobbiamo essere informati di tutta l'attività dei laboratori. E poi ancora il camion entrato nel centro di ricerca non conteneva comunque il cerio 144. Poi leggiamo a metà pagina, intanto il parco investe sui pascoli, sentieri e praterie d'alta quota. In basso denuncia di D'Alfonso, l'interporto sotto il faro delle procure. Andiamo ora nelle pagine di Pescara. Antitetanica, vaccini introvabili, giallo nelle farmacie. In piena campagna Provax, scomparse dal commercio anche le gamma globuline per i richiami. Dito puntato sulle aziende. L'emergenza va avanti da mesi e riguarda alcuni altri farmaci tipo gli antiepilettici. Dice Fabrizio Zenobi, dirigente di Federpharma. Poi ancora le case farmaceutiche orientate a privilegiare mercati esteri. Più redditizie, famiglie in difficoltà. E poi medici, derby femminile per l'ordine. In campo anche a Narita Frullini. Salute, formazione e partecipazione. Le parole chiave del programma dell'aspirante presidente. Poi ancora, sempre a Pescara, addio a femminella commercio in lutto. Scomparso il fondatore della storica profumeria Pelletteria. Era stato tra i protagonisti del boom economico pescarese. Due anni fa la premiazione di Confcommerci insieme ai grandi della rinascita della città del secondo dopoguerra. E poi ancora, centro pagina, morte improvvisa in ospedale. Oggi l'autopsia, la famiglia chiede la verità. Gersomina con le vecchie ricoverata per una gastroenterite. Anche la ASL vuole chiarezza. Siamo sempre a Pescara. firma l'appello UE per le bici domani agli stati generali della mobilità. L'adesione alla lettera rivolta a Juncker dalle principali città europee. Anche Civitarese si schiera per la richiesta di una strategia continentale a favore di soluzioni alternative ai mezzi privati. Si punta a portare al 50% entro il 2030 l'uso delle due ruote. L'assessore è anche il nostro obiettivo. In basso, tre donne, la fuga, l'incontro. Il nuovo libro della Lippolis. Per la prima volta, la scrittrice pescarese porta in primo piano figure maschili accanto alle protagoniste. Avanti ancora e siamo alle pagine aquilane. Anatra Zoppa, il Tar riaccende le speranze del centro-sinistra. Strada più lunga per la coalizione aquilana sconfitta. Deve prima trovare 41 preferenze. Decisiva l'udienza al Tar dell'8 novembre. Chiesto il riconteggio dei voti in 10 seggi. L'ex assessore del PD Maurizio Capri non è la stessa situazione ma sono abbastanza fiducioso. In basso le parole dell'avvocato Verini. Il nostro ricorso mira a consentire il recupero delle preferenze mancanti. E poi, per la cronaca, furti sgominata la banda di peruviani. In tre hanno rubato presso l'atelier di Martini e tentato di farlo nell'outlet di Sista e Panarelli. Poi, sempre all'Aquila, ZTE, il colosso cinese scommette sulla città. Presentato l'accordo con l'Università per l'istituzione di un centro di ricerca all'interno dell'area del Tecnopolo. Un paio di mesi per l'apertura. Poi, attività non temporanee. Hukun, siamo qui per restare per sempre sul territorio. Dettagli ancora top secret. Si dovrebbe cominciare con 30 unità. Siamo ora nella Marsica con un altro episodio di Anatra Zopa. Questa volta ormai acclarato con sentenza del Tar. Di Pangrazio vince il ribaltore in comune. Il Tribunale Amministrativo attribuisce 13 seggi allo sconfitto e 9 all'opposizione legando il premio di maggioranza a De Angelis. Le ipotesi in campo. O il primo cittadino va in minoranza o è costretto a far scattare una sorta di caccia agli alleati. Si va ora al Consiglio di Stato, ma intanto la sentenza fa la storia. La reazione dei due sfidanti. Per noi nulla cambia. Noi siamo pronti. Le parole rispettivamente di De Angelis e di Pangrazio. Ora le pagine di Chieti. Operaio morto, quattro imputati. Il PM fu un omicidio colposo. Un uomo di 47 anni precipitò dal cantiere di una palazzina. Volo di 15 metri. L'accusa carenti le norme di sicurezza. Ponteggio senza i sistemi di ancoraggio. Nella prossima udienza il GUP Luca Deninis dovrà decidere se disporre il rinvio a giudizio. E poi di spalla leggiamo Piazza San Giustino e parking dal governo. Ecco 11 milioni. Avanti ancora andiamo in basso. Istituire un ex-dams insieme con il teatro Marrucino. Idea del rettore rilanciato dal professor Bonetta. Creare le professioni per lo spettacolo. Siamo sempre nelle pagine di Chieti ma nella zona frentana. Fondo Valle la minaccia dei ricorsi. Presentati in regione i maxi lavori da 192 milioni di euro. Il timore è che l'iter sia rallentato da eventuali contenziosi. D'Alfonso opere concluse. Vincolo morale con il territorio. La sola galleria costerà 36 milioni. Zona a rischio frane. I dubbi di Mauro Febbo. Ben 147 pagine di prescrizioni. La vicenda rischia di arrivare in tribunale. Allora vediamo il servizio sulla presentazione dei lavori alla Fondo Valle del Sangro che c'è stata ieri in regione. 5 chilometri per 190 milioni di euro è l'appalto per il completamento della Fondo Valle Sangro che è stato aggiudicato una settimana fa alla De Santis Costruzioni di Roma. Il cronoprogramma prevede che le procedure di affidamento dei lavori debbano concludersi entro il 2017 per avviare i lavori all'inizio del 2018 e aprire al traffico l'opera entro la fine del 2022. La regione Abruzzo ha destinato all'interno del masterplan 78 milioni di euro che si aggiungono ai 112 governativi. Il tracciato, scelto tra le 5 opzioni che originariamente erano sul tavolo di valutazione comprende 5 viadotti per complessivi 1,2 chilometri e una galleria che si estende per 2,5 chilometri e parte dalla stazione ferroviaria di Gamberale Sant'Angelo. L'opera, attesa da decenni, serve una zona industriale fondamentale per la regione Abruzzo e per il centro Italia, quella della Val di Sangro e ha suscitato non poche polemiche per il costo eccessivo dovuto al fatto che insiste in un territorio a forte rischio frana D'Alfonso parla di una svolta storica nei trasporti della regione al di là di ogni polemica. Ho raccomandato all'impresa ma anche ad altre figure che stanno sugli spalti che l'impresa si innamori di concludere l'opera e di inaugurarla e di metterla in esercizio senza che ci sia quella condotta a volte che riguarda le imprese di immaginare che da cosa nasca cosa e cioè dare fastidio col contenzioso per allungare la consistenza finanziaria e per cercare di guadagnare non facendo l'opera ma facendo contenzioso comporterà di legare il sistema produttivo non solo industriale abruzzese anche turistico anche di collocazione identitaria e ambientale dell'Abruzzo alla potenza relazionale del porto di Napoli noi abbiamo interesse ad avere questa vicinanza abbiamo interesse a creare convergenza grazie a quest'opera noi rientriamo a pieno titolo nella consistenza delle infrastrutture per la copertura della velocità europea io ci credo che ce la possiamo fare mi auguro che tutto vada a filo sempre sulle pagine di Chieti Trivelle al lago di Bomba riparte la contestazione intanto Umbrina se ne va dopo 40 anni chiude definitivamente il pozzo petrolifero e poi la brigata Maiella in un romanzo lo storico lancianese Nasuti presenta il libro Il patriota e il giardiniere le pagine terramane del messaggero Abruzzo Fagnano in azione e ora subito al lavoro per 14 nuovi primari ma la riduzione della spesa potrebbe essere un boomerang gli obiettivi da raggiungere nel primo step indicato in 18 mesi le parole del sindaco Brucchi sono soddisfatto ma essere virtuosi nelle spese non sempre premia lo stesso è avvenuto in comune il nuovo ospedale decisione che spetta alla regione non al manager che si attiene ai compiti dati e poi Corso San Giorgio il primo cittadino difende i lavori sui social e i negozianti si infuriano dimezzato il numero degli esercizi chiederemo il risarcimento dei danni e poi ancora Giulianova i commercianti rischiano la chiusura i lavori di via Nazario Sauro vanno a rilento sono impiegati pochi operai e non sono in cantiere tutti i giorni via il Bobcat chiedono che la strada torni carrabile con le invitazioni al posto della pista ciclabile e la riapertura all'8 di dicembre in basso leggiamo anche c'è anche un marciapiede della discordia i privati non vogliono cederlo e poi ad Alba Adriatica situazione politica sempre in fermento PD l'espulsione di Viviani fa rinviare il congresso l'ex segretario era stato rimosso dopo i commenti sui migranti sui social salta anche quello di Torricella sicura lasciamo il messaggero e andiamo ora sulle pagine della città e siamo a pagina 4 che andiamo a vedere ecco qui esperimento radioattivo mobilitazione per l'acqua le associazioni si muovono per chiedere di stoppare l'istituto di fisica nucleare a rischio acqua ambiente 800.000 persone appunto il rischio secondo gli ambientalisti una sorgente radioattiva incompatibile con la presenza delle captazioni di acqua i lavori sono già a rischio di incidente rilevante per la direttiva Seveso andiamo avanti ecco qui mano ai conti e alle liste d'attesa il manager dell'ASL Fagnano parla degli obiettivi ricevuti dalla giunta d'Alfonso e sulla riconferma alla direzione generale dell'ASL Terramana il servizio del TG6 L'avvocato molisano Roberto Fagnano è stato riconfermato a guida dell'ASL di Terramo per i prossimi tre anni a deciderlo l'aggiunta regionale convocata in tarda serata dal governatore D'Alfonso al suo rientro a Bruxelles l'incarico del manager era già scaduto da 11 giorni e lasciare un'azienda sanitaria senza un direttore generale non era davvero più possibile un lasso di tempo che ha fatto immaginare ci fossero dubbi sulla riconferma di Fagnano nonostante i conti in pareggio dell'ASL di Terramo che si è dimostrata essere l'unica azienda sanitaria virtuosa in Abruzzo ora che l'avvocato molisano tornerà nel suo ufficio di circonvallazione ragusa ad attenderlo ci saranno però sfide epocali per la sanità terramana prime tra tutte la realizzazione dell'ospedale unico provinciale per acuti che prevede 800 posti letto e la nomina di 15 primari in reparti fondamentali dopo la scelta fatta da alcuni di loro di lasciare Terramo e tanti altri andati in pensione c'è poi la necessità di procedere a completare gli iter già iniziati per le nuove assunzioni e stabilizzazioni vista la cronica carenza di personale accanto a lui resteranno con grande probabilità sia il direttore amministrativo Maurizio Di Giosia il cui contratto scade a dicembre prossimo sia la direttrice sanitaria Maria Mattucci in scadenza nel 2018 del resto squadra che vince non si cambia sempre sulla città 20 anni da precari per 100 euro al mese gli ex LSU del settore pulizia delle scuole chiedono di essere stabilizzati ma come personale ata e poi sempre sulla città siamo alle notizie che arrivano dalla provincia di Terramo sindaco Cupido per promuovere il territorio D'Angelo a caccia di innamorati over 60 per i 3 con l'obiettivo di mostrare la bellezza di Valle Castellana ho voluto portare le telecamere di una rete nazionale qui a Valle Castellana per mettere in evidenza i terribili disagi e le condizioni drammatiche della nostra viabilità dopo il terremoto dice il primo cittadino di Valle Castellana e poi ancora strade provinciali pronta la lista della spesa regione pronta a distribuire 56 milioni di euro una tantum la provincia chiede almeno 15 milioni e qui alcune delle richieste fatte appunto dalla provincia quasi 4 milioni per la Valle Vibrata con alcune provinciali la 8 la 262 la 1 la 60 la 18 poi 3 milioni e mezzo per il Gran Sasso Laga le strade del Gran Sasso Laga quasi 3 milioni e mezzo anche per le strade della zona Tordino-Vomano e 4 milioni e 2 per la zona del Mavone fino con le strade per Bisenti Cermignano Isola e Colle d'Ara avanti ancora siamo ad Alba Adriatica il PD regionale si schiera con Pepe Rapino e Catena rinnovano la fiducia al commissario di Alba Adriatica ho invitato a dare il loro contributo anche a coloro che si erano allontanati dalla militanza attiva le parole del commissario e poi in basso grandi manovre anche a Sant'Egidio alla Vibrata Talbacchia Romandini pensano alla candidatura già iniziate manovre politiche in vista delle amministrative del dopo Rando Angelini sindaco eletto già per due mandati consecutivi e dunque non più ricandidabile ora a Giulianova già fermi i lavori in via Nazario Sauro preoccupazione tra i commercianti e i cittadini giuliesi per lo stop inatteso e poi sempre a Giulianova arrivano i fondi per mettere in sicurezza l'asilo nido 400 mila euro per l'adeguamento sismico della struttura che ospita le Coccinelle sul fronte sanità D'Alfonso fissa finalmente l'incontro sull'ospedale appuntamento il 30 ottobre dopo mesi di mancate risposte alle richieste del sindaco a Roseto piano spiaggia al Borsacchio si tornerà a fare il bagno il consigliere di Sante annuncia provvedimenti per garantire la sicurezza e tende una mano ai balneatori la tempistica il nostro obiettivo è quello di approvare il provvedimento per i primi mesi del prossimo anno e poi il caso Bolkenstein io parlavo ad ampio raggio sul tema dei beni pubblici dati in concessione ai privati che spesso si deteriorano per incuria nella speranza che poi paga pantalone restiamo a Roseto un altro argomento caldo nella città rosetana è la tassa di soggiorno aiutatemi a rendere Roseto più bella il sindaco Sabatino di Girolamo non ha fretta sulla tassa turistica ma è determinato a introdurla ci piacerebbe poter offrire ulteriori contenuti di intrattenimento per l'estate rosetana un cartellone serio che vada oltre la generosità dei privati nessun isolamento tranne per il caso di Alba Adriatica dove si vota gli altri comuni hanno tutti la nostra intenzione dice di Girolamo e poi la pagina della cultura il cinema di Valeri iniziò a Montorio un anno fa moriva il regista nella cittadina che gli diede i Natali si innamorò dei film andiamo ora alla pagina dello sport Teramo Calcio in evidenza ovviamente per asta dubbi in attacco ma ritorna Amadio Barbuti o Foggia e Bacio Terracino o Sumare per la gara di domani novità sono attese anche in casa Veneta oggi la seduta di rifinitura stamani l'allenatore Biancorosso dovrebbe sciogliere i ballottaggi che ancora tiene vivi sugli esterni potrebbero essere confermati Ventola e Baras rifinitura abruzzese anche per i biancoscudati in basso si parla di pattinaggio a San Nicolò nel weekend vanno in scena le finali nazionali dei circuiti domani e domenica oltre 300 piccoli atleti si esibiranno nell'evento organizzato dalla rolling bosica Martin Sicuro prima di andare sulle pagine sportive di Centro e Messaggero diamo uno sguardo alle prime pagine delle testate sportive nazionali siamo sulla gazzetta dello sport ecco qui a centropagina qui non si passa e il titolo riguarda il derby di Milano che si giocherà domenica con la gazzetta che è andata nelle case dei difensori Skriniar e Rodriguez sono gli acquisti milanesi con i voti più alti in pagella il nero azzurro dice per noi esiste solo la vittoria per crescere il rosso nero San Siro è sempre da pelle d'oca ma domenica ci sarà una partita speciale poi sempre sul fronte derby abbiamo più fame dice Candreva l'interista Candreva il milanista Canini c'è fuori e la vetrina tocca ad Andrè Silva e poi sotto la testata i messi di taglia Mertens e Di Bala 10 d'oro che numeri per Napoli e Juve andiamo ora a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport il più bravo per gli italiani Allegri è il tecnico migliore della Max raccoglie il 54% dei consensi dietro di lui Sarri e Spalletti per il 32% degli intervistati l'allenatore conta più del 50% poi sotto la testata Alan Canta Napoli gli diamo spettacolo siamo da Scudetto la Roma snodo chiave sarà un grande match poi il record di incassi di presenza in Termina fa storia incasso ma è così ricco superati i 4 milioni e mezzo di euro battuto ogni privato ogni primato meglio solo il classico e poi tutto sport che apre con l'intervista a Ligabue il Toro ha il rispetto del mondo il cantautore a Superga con il fratello tifosissimo Granata dopo lo strepitoso successo del concerto a Torino sono interista ma ho capito che qui batte un cuore gigantesco e poi sotto la testata Juve pieno di fantasia domani i bianconeri contro la Lazio vogliono cancellare la sconfitta di agosto in Supercoppa e adesso torniamo sul centro andiamo alle pagine dello sport ieri ha parlato in conferenza Zeman anticipato di un giorno quella che è la classica conferenza pre partita perché già questa mattina il Pescara sarà in viaggio verso Parma allora ecco le parole di Zeman Pescara niente paura la B non si decide ora non sono preoccupato ma bisogna imparare a giocare di squadra Mancuso verso il rientro nell'undici titolare sta bene non ha 90 minuti nelle gambe ma è un generoso Ganzi in ballottaggio devo valutare se può essere più utile di Pettinari e Coccola e Lisalde è un predestinato poi il Boemo sfida e la sfida del Tardini dove è allenato nell'87 gli emiliani non hanno grandi ritmi ma sono bravi a gestire la gara Zeman ha parlato anche di Serie A in vista del big match tra Roma e Napoli Napoli favorito sulla Roma Insigne Florenzi miei pupilli sul fronte formazione Bovo KO D'Aversa recupera Ceravolo il Delfino rinuncia al difensore i geloblu avranno a disposizione il bomber e allora andiamo ad ascoltare le parole in conferenza pronunciate ieri da Zeman io non sono preoccupato anche lì anche lì io so che c'è una squadra con poca esperienza che si deve abituare a giocare un campionato di Serie B proprio a Parma è l'occasione nel senso che tanti ragazzi giovani o giocano con la nazionale giovanile abituarsi a giocare con gente di Parma che c'è gente di 40 anni di 37 35 bisogna incontrarli e capire che cosa è campionato non ho non ho problemi di squadra zemaniana a parte che tutte le squadre che alleno sono mie poi il discorso se ci viene a giocare quello che vogliamo sono contento se no bisogna lavorare e io sono più contento quando lavoro vabbè io sono contento che è equilibrato perché ci dà più tempo di riuscire a migliorarsi tanto campionati si decidono sempre sempre nei ultimi due mesi e se ci danno tempo io penso che nei ultimi due mesi saremo un'altra squadra non come nomi ma come comportamenti se andate dietro questo non sentite tanti in giro ma come io sono qua anche per motivare devo spingere qualche cosa per dare per cercare che i giocatori danno qualche cosa di più quindi per me è normale e sarà sempre così vabbè noi stiamo abbastanza bene fuori campagnaro bovo penso basta proiettiche un po' più lungo tutto può essere grazie a disposizione poi bisogna valutare se può essere più utile rispetto a pettinare o no per me Mancuso oggi sta a posto anche lui forse non ha 90 minuti ma come un ragazzo molto generoso io spero che se gioca darà tutto quello che ha poi dipende quanto dura sempre sul centro serie C Varas il jolly di Asta Teramo col Padova serve una vittoria l'equadoriano è stato impiegato in più ruoli posso migliorare vorrei regalarmi il primo gol ma io verso il rientro dall'inizio per la serie D Rullo non credevo nell'Avezzano serie D l'ex marsicano era arrivato per vincere ma non c'erano le basi e salvo infortunio domenica sarà in campo contro l'Avezzano con la maglia dell'Olimpia Agnonese dove è tornato a giocare adesso andiamo al ciclismo Giro d'Italia in Abruzzo arrivo a Campo Imperatore partenza da Farindola la regione stanza a 200 mila euro lunedì l'incontro a Milano con la RCS per definire i dettagli dell'operazione Francavilla resterà fuori e poi in basso la prossima settimana svolta nell'Unione Ciclistica Fernando Perna Sebastiano e Giuliani nel Matteotti la corsa sarà un premondiale e andiamo ora alla pagina del basket Roseto l'ora del riscatto ma c'è la grana infortuni domenica Sharks a Brescia contro l'Orzi Novi per il primo acuto di Paolo Antonio non recupera il play Marulli ma spera di avere almeno contento sul messaggero vediamo la pagina sul Pescara il mio Pescara crescerà parla Zeman alla vigilia della sfida del Tardini può essere l'occasione per mostrare passi in avanti Mancuso torna a titolare ma non so che autonomia avrà la squadra emiliana molto esperta e forte sulle palle inattive e poi precedenti 30 anni fa l'ultima vittoria in Emilia tra un paio di mesi i giovani avranno più esperienza e non ripeteremo gli errori attuali per la serie C Varas Teramo il gol mi manca voglio sbloccarmi contro il Padova il tecnico Asta sta pensando per la mediana rilancio di Amadio e poi sul fronte serie D l'Aquila brutto colpo fallimento più vicino Ranucci sta completando il bilancio che certificherà perdite per oltre un milione solo ricapitalizzando si può salvare il club se non saranno presentate le garanzie l'amministratore dovrà portare i libri in tribunale per il calcio a 5 UEFA Futsal Cup il Pescara cede al Minsk ora si gioca tutto contro la Dinamo Mosca il quintetto di Colini si arrende per 6 a 4 ai padroni di casa noi finiamo l'edizione odierna di mattino 6 vi ricordo l'appuntamento con i nostri notiziari i TG6 delle ore 14 19 e 23 io ringrazio in regia Silvia Gentile e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata e ringrazio voi Grazie a tutti.